Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi, come avrete sicuramente notato, lo sfondo è diverso perché c'è alle spalle il mio armadio. Perché sono qui? Perché voglio rispondere a un tag che si chiama I segreti del mio armadio e volevo farlo appunto dal mio armadio mostrandovi come è, insomma, strutturato e che cosa c'è dentro. Sono otto domande, parto subito con la prima, guardo in basso, scusate perché le domande le ho messe lì, quindi devo guardare necessariamente in basso per poterle leggere. La prima domanda è qual è il capo più vecchio che hai? Allora, il capo più vecchio che ho è questa gonna qua. È una gonna corta che ha, non so se si vede bene, ha tre bottoni, vabbè io adesso non li ho lacciati comunque ha i primi tre bottoni e poi sotto, diciamo, rimane, una volta chiusa, rimane così. Quindi è una gonna fatta in questo modo, corta, ed è il capo più vecchio che ho perché l'ho acquistata quando andavo alle scuole superiori. Quindi io quando avevo 18 anni, 19, così, andavo a volte a scuola con questa gonna, comunque uscivo alla sera, mi mettevo questa gonna e devo dire che io ce l'ho ancora nell'armadio perché negli anni non si è rovinata, si è ben tenuta, il mio fisico fortunatamente è rimasto praticamente lo stesso che avevo quando andavo alle superiori, quindi io negli anni non ho acquistato chili, ho potuto mantenere la stessa taglia che avevo all'epoca e quindi posso ancora indossare questa gonna, quindi è nel mio armadio per questo motivo, perché ogni tanto io ancora la metto, quindi questo è sicuramente il più vecchio che ho. Seconda domanda, qual è il capo più recente che hai? Il capo più recente che ho, che ho acquistato veramente pochissimo tempo fa, forse sono passati forse dieci giorni neanche, è questa camicia che vi faccio vedere, ecco questa camicia qua, è il capo più nuovo, più recente che ho, è una camicia con le maniche lunghe, che in questo momento non posso indossare perché comunque è caldissimo, tra l'altro questo video tag è la versione estiva dei segreti del mio armadio, poi farò la versione invernale fra qualche mese quando si avvicinerà l'inverno. Comunque questo è l'ultimo acquisto che io ho fatto, questa camicia maniche lunghe, ora vista così magari non si vede, però è abbastanza arricciata, diciamo sulla parte del seno è poi abbastanza avvitata, è una camicia molto carina, insomma mi piaceva, costava molto poco e l'ho acquistata di recente. Poi terza domanda, qual è stato il tuo più grande affare? Allora senza dubbio, scusate se mi giro ma devo mettere a posto le cose, il mio più grande affare è stato questo abito qua, che è un abito della Disegual, io l'ho pagato solo 5 euro, quindi direi che è stato un grandissimo affare perché se voi conoscete la marca Disegual sapete anche, questo è il dietro del vestito, sapete anche quanto è costosa questa marca, quindi sotto è fatto così, nel senso cerco di farvelo vedere il meglio possibile, sotto è fatto in questo modo, ha le maniche lunghe, anche questo però è veramente leggerissimo, quindi si può mettere in primavera, anche all'inizio dell'estate, quando magari non è proprio caldissimo, ed è stato un grande affare perché io adoro la marca Disegual, mi piace veramente da morire, ma ho pochissimi capi di questa marca perché comunque è abbastanza costosa, costosa per quelle che sono le mie tasche ovviamente, e questo quando l'ho visto a 5 euro ne ho approfittato immediatamente, quindi sicuramente questo è il più grande affare che ho fatto. Quarta domanda, qual è il capo più costoso che hai? Sicuramente il capo più costoso che ho è questo abito, questo abito qua, che è un abito lungo, che tra l'altro è talmente lungo che non sta neanche nella telecamera, cerco di farvi vedere, in fondo è fatto così, è tutto di voile, è molto bello, molto particolare, è praticamente avvitato fino in vita e poi fino ai fianchi, scusate, è abbastanza aderente, poi in fondo praticamente si allarga e fa un po' questo giochino di voile, tutto così, con insomma il tessuto in questo modo, sembra un po' un abito da principessa perché è veramente bello, poi ha tutte le perline attaccate, io ve lo avvicino in modo che voi lo vediate il più possibile, vedete che ha tutte le perline, proprio cucite, io credo addirittura a mano perché è una cosa veramente particolare, e poi insieme aveva la sua sciarpina con le frange dietro, fatte in questo modo, ed è un abito comunque da cerimonia, questo è quello più costoso che ho perché l'ho pagato la bellezza di 300 euro, ebbene sì, avete capito bene, 300 euro, è stata una cosa super folle, però io l'ho acquistato perché dovevo andare al matrimonio di mia cognata, il mio compagno era il testimone, io volevo comunque essere all'altezza diciamo, volevo essere adeguata, volevo fare anche la mia bella figura, insomma, e ho acquistato questo abito spendendo veramente tantissimi soldi, veramente mi si alza la pressione a pensare a quanto ho speso per questo abito, però devo dire che è un abito bello, di qualità, insomma, alla fine i soldi che ho speso li vale, devo dire la verità. Passiamo alla quinta domanda così mi si abbassa la pressione ragazzi. Allora, qual è stato il più grande spreco di soldi? Ecco, io rimango con questo abito in mano perché sì che è un abito bellissimo, che è un abito che sicuramente mi ha fatto fare una gran bella figura, però 300 euro per indossarlo solo ed esclusivamente al matrimonio di mia cognata e poi a un altro matrimonio che c'è stato anni dopo di un amico del mio compagno dove finalmente ho potuto avere l'occasione per indossare di nuovo questo abito, però insomma 300 euro per indossare questo abito solo ed esclusivamente due volte in tutta la mia vita è stato comunque abbastanza uno spreco di soldi. C'è da dire che mentre parlo mi è venuto in mente che l'ho utilizzato in realtà una terza volta, l'ho utilizzato in crociera durante la serata di gala perché era l'unico momento in cui veramente io potevo mettere un abito del genere perché è un abito che io non so se si capisce dalla telecamera ma è veramente elegantissimo, cioè non è uno di quegli abiti che io mi posso mettere se vado a fare una serata da qualche parte, fosse anche in un locale, cioè è veramente troppo elegante, quindi veramente o un matrimonio o giusto una serata mega galattica di grande gala perché altrimenti non si può indossare, sarebbe troppo, sarebbe esagerato e quindi è stato uno spreco di soldi perché 300 euro per metterlo così poco veramente è stato uno spreco, io avrei potuto magari prendere un vestito carino lo stesso, spendere meno e poterlo poi sfruttare in altre occasioni, quindi questo è stato purtroppo uno spreco di soldi, pur essendo un vestito che è bello, però è uno spreco di soldi. Sesta domanda, qual è il capo più economico? Allora tutto il mio armadio economico, perché io per vestirmi spendo veramente pochissimo e praticamente vi potrei far vedere tutto il mio armadio che trovereste, a parte il vestito di prima, da 300 euro, trovereste veramente solo cose economiche, ma forse quello più economico di tutti perché ho veramente pagato pochissimo pochissimo è questa maglia che ho pagato 3,90 euro, quindi forse questo è il capo più economico, è una maglia che arriva in vita, anche se vista così sembra lunga, però in realtà è abbastanza corta perché arriva in vita, ha le spalline, insomma mi piaceva più che altro questa fantasia un po' così, perché è una di quelle maglie che si possono indossare sia se siamo un po' più sportive, sia se magari ho una gonna nera, quindi sono un pochino più elegante, ho un paio di pantaloni neri, insomma mi sembrava per il prezzo che aveva e per il tipo di maglia veramente insomma indossabile in qualsiasi circostanza praticamente, quindi inoltre 3,90 euro, quindi veramente pochissimo, quindi questo sicuramente è il capo più economico che io ho dentro l'armadio. Andiamo avanti, mostra 3 dei tuoi capi preferiti, bene, non vedevo l'ora di arrivare a questo punto. Allora, i miei capi preferiti, partiamo con il primo, scusate se vi dole un po' le spalle, ma purtroppo l'armadio è... Il primo dei miei capi preferiti è questo, è un abito lungo, è un abito lungo che ho comprato in internet sul sito della Bonprix, non so se lo conoscete, io una volta facevo tantissimi acquisti su quel sito, poi ho un po' smesso negli anni, però questo l'avevo preso più o meno l'anno scorso, se non ricordo male, ed è un abito lungo veramente molto bello, perché è fresco, è aderente ma non troppo, quindi comunque è abbastanza fresco, si può indossare sia per andare al mare, sia per uscire, quindi per... e mi piace molto come è fatto qua, che ha questa fascia sul seno, un po' così, poi è un abito lungo, come vi dicevo, quindi insomma, poi cade lungo, semplicemente così, in modo semplice, ha un taglio abbastanza semplice, più che altro è qua che mi piaceva molto, e veramente si può indossare in qualsiasi momento, in qualsiasi occasione, è veramente un abito insomma bellissimo, che tra l'altro avevo anche pagato abbastanza poco. Ecco, il secondo abito, scusate, ha tremato un po' la telecamera, perché ho appoggiato il vestito e un po' ho ballato tutto, va bene. Il secondo mio abito preferito, capo preferito, è questo, non li sto facendo vedere in ordine di preferenza, ve li sto facendo vedere in ordine di come sono messi dentro l'armadio, perché sono tutti a pari livello come preferenza, non ce n'è uno che mi piace di più di un altro, cioè non è una classifica, è proprio che ve li faccio vedere così come riesco a prenderli. Allora è questo qui, questo è il coprispalle che io abbino con questo top, che vi faccio vedere senza coprispalle, questo top verde, e mi piace molto perché dietro ha questa coda, praticamente ha questo nastro che io abbottono dietro la schiena e poi rimane un po' come se fosse una coda. È molto carino, anche qua sul seno che è un po' arricciato, poi viene giù in modo molto semplice, è un top, è verde, a me piace tantissimo perché io ho i capelli rossi e quindi con il verde veramente è un abbinamento che mi piace tantissimo. I miei capelli sono molto più rossi di quello che voi state vedendo qui nel filmato, perché adesso c'è la luce artificiale, ma alla luce del sole sono veramente molto molto rossi, anzi, siccome magari è difficile da credere vedendomi così, io voglio farvi vedere quanto sono rossi i miei capelli. Lo so che non c'entra con il tag, però siccome c'entra con il motivo per cui questo top è uno dei miei preferiti, cioè abbinato al colore dei capelli, io voglio farvi vedere com'è il colore dei miei capelli. Ecco ragazzi, i miei capelli sotto il sole sono così, quindi come avete visto sono veramente rossissimi e con questo top verde veramente a me piace tantissimo questo abbinamento, quindi è anche uno dei motivi per cui è uno dei miei capi preferiti. Andiamo con il terzo che ve lo faccio vedere per ultimo, però in realtà forse è quello che mi piace di più di quelli che io vi ho fatto vedere, però era un po' difficile da prendere perché c'era l'attaccapanni incastrato, quindi è questa maglia qua. Questa maglia con le maniche a tre quarti, con questa fantasia, ed è una maglia che cade giù in modo abbastanza semplice, è abbastanza corta perché arriva appena sopra la cintura, ed è una maglia che mi ha regalato mia cugina per Natale, per lo scorso Natale. Anzi, se mia cugina sta guardando questo video, io colgo l'occasione per dirle che la maglia che mi ha regalato è uno dei miei capi preferiti, intanto la saluto e le mando un bacio. Scusate per questa piccola parentesi così fuori tema, ma se per caso stava guardando, visto che sto facendo vedere una cosa che mi ha regalato lei, volevo sottolineare questo. Ed è uno dei miei capi preferiti perché è una maglia veramente semplice da indossare perché si può portare veramente con tutto, sia che io abbia un paio di jeans, sia che io abbia un paio di pantaloni più eleganti, veramente questa maglia ci sta benissimo. È molto leggera, è veramente comoda perché comunque cade bene, non è troppo attillata, non è troppo aderente, quindi non stringe, cioè è veramente bella. Io l'ho messa tantissime volte, forse avevo anche girato un video con questa maglia, adesso che ci penso, comunque l'ho messa tantissime volte e mi trovo benissimo, veramente una maglia che adoro, con tutta me stessa, quindi questo. Siamo arrivati all'ultima domanda, ossia qual è un capo che tu ami ma che tutti odiano? Io devo dire che non c'è nel mio armadio un capo che tutti odiano, nel senso nessuno mi ha mai detto, ma questo abito mamma mia buttalo via, è terribile, cose del genere, nessuno me le ha mai dette, quindi io se c'è un abito che io amo e tutti odiano, diciamo che non lo so perché non mi è mai stato detto, anche se in realtà io vorrei farvi vedere un vestito che io amo, però quando ho fatto vedere questo vestito effettivamente le persone hanno un po' storto il naso perché hanno pensato forse che non fosse un abito insomma tanto adeguato da indossare, anche magari per andare a fare qualche serata particolare. ce l'ho in fondo all'armadio perché è un abito che io non indosso praticamente mai, anzi non lo indosso mai, però l'ho tenuto perché comunque mi piace molto, adesso ve lo faccio vedere, sparisco un attimo perché devo andare per recuperarlo sotto l'armadio, quindi vi lascio un momento con il mio armadio, da soli con il mio armadio, sparisco sotto l'armadio ma voi continuerete a sentire la mia voce perché io devo recuperare questo abito che come vi dicevo è in fondo all'armadio, eccolo qua, eccomi sono di nuovo con voi ragazzi, allora l'abito è questo, questo abito qua, allora è un abito lungo che viene giù tipo stile sirena, scusate è stropicciato perché io lo tengo piegato in fondo all'armadio, veramente non lo indosso, quindi non l'ho stirato, è un abito lungo tipo sirena che ha un po' questa fantasia sull'azzurro, sul rosa un po' cangiante e dietro nella schiena ha questi bottoncini, ora io cerco di avvicinarmi il più possibile per farveli vedere, vedete ha questi bottoncini con questa chiusura, si credo si veda, va bene insomma è un abito veramente a sirena, poi ha questa scollatura davanti insomma fatta in questo modo, questo è un abito che io ho indossato solo ed esclusivamente per una sfilata di moda, quindi insomma è un abito diciamo da passerella perché l'ho indossato per questa sfilata di moda che avevamo organizzato nella casa di campagna che io avevo quando ero ragazzina, avevamo fatto questa sfilata, insomma avevamo indossato un po' di abiti tutti particolari, in cui insomma io avevo avuto l'occasione di indossare questo, è un abito che in realtà mi va bene ancora, anche se all'epoca ero veramente giovanissima, però insomma non lo indosso perché quando lo faccio vedere gli altri dicono ah sì è molto particolare, è bello e particolare, però insomma è un po' strano, un po' così, quindi insomma forse è questo, però a me piace, quindi io non riesco a buttarlo via questo abito, anche se poi non lo indosso. Bene ragazzi questa era l'ultima domanda, spero di essere riuscita ad intrattenervi per questi pochi minuti, facendovi un po' vedere qual è il mio armadio, cosa c'è dentro, quali sono i miei capi preferiti, se volete fare questo tag io vi taggo tutti quanti, se lo fate magari poi fatemelo sapere così vado a vedere quello che avete risposto, vi mando un bacio e vi do appuntamento al prossimo video, ciao ragazzi!